Grazie a tutti. Non è necessario più il ristoro? Ah non lo so. Ma c'è stato pure tazzicci? E c'è stato tutto, pure la porchetta. C'è questa porchetta, vino, c'è tutto al ristoro. Perciò chi si può fermare, il primo ristoro, si mette seduto là, porchetta e vino. La scia fa che sta porcettando. Fermati, fermati. Ma ce ne stanno ancora dietro qua? Vogliati. Ma ce ne stanno ancora? E ora mi tocca a stare fino a stasera a farmi. Sessione alla sinistra. E fatti tu? Eh? Mi tocca a stare fino a stasera? Eh, scusate. A lei che è finita, dai. Un cento metri e c'è la discesa poi. Tutta discesa. A te proprio po', eh. Al calzolaio. Dai che è finita, eh. Cento metri e c'è la discesa, tutta discesa poi, dai. Da qua già vedi la sbarra che è fila. A che situa è facendo le foto? A foto 9. Foto 9. Foto 9. Foto 9. Foto 9. Si metta a vedere il panorale, eh? Qua ci dovrebbero fare una specie di Paris-Ciroubaix. E' un po' peggio. E' un po' peggio proprio dalla Paris-Ciroubaix. Si saliva fino a sopra. Ah, è vero, è vero, è vero. Ma io non è che conosco molto bene qui i uomini. Io non vado in bicicletta, grazie. No, no, no. Io vado in macchina. E manca piedi lato. Dai che è finita, su, dai che è finita. Signora? Sì, sì, dai. Speriamo. Sarà da qua in 100 metri. Adesso viene asfaltato, poi a destra c'è tutto di cesta. Eh, già si vede là, vedi? Tranquilla, vai. Ok. Mortitto, hai lì. Epiglione, a earner, sei. Ne bambande vai qua! No, no, no Dai che è finita, dai, tranquillo Adesso centinaia di metri per dire asfaltato Sì? Sì E poi in altri cinquanta metri, cento metri avanti per la discesa Prendi proprio in discesa Basta Ecco questo E' venuto un pezzo dell'inghiera verde Un pezzo dell'inghiera verde E' venuto un pezzo dell'inghiera verde Grazie a tutti 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 Grazie a tutti